ANSA, Assisi, Perugia, 4-8, il premier Paolo Gentiloni al suo arrivo al Sacro Convento di Assisi, ha incontrato brevemente il custode, padre Mauro Gambetti, la presidente della regione, Catiuscia Marini, ed altri ospiti. Poi si è avvicinato per ammirare da vicino un grande pannello realizzato dai bambini delle scuole di Assisi, dedicato alla pace. Dopo la cerimonia religiosa nella Basilica Superiore, ci saranno i saluti dalla Loggia del Sacro Convento, che affaccia sulla piazza della Basilica Inferiore. Qui, ha annunciato il direttore della sala stampa, padre Enzo Fortunato, saranno presenti circa mille bambini di Assisi. Molti i pellegrini provenienti dall'Alliguria, la regione che quest'anno dona l'olio per la lampada, che arde sulla tomba di San Francesco. Anissa